da giù il taccello, Ongaro con Gimondi, Ongaro, Ongaro su Gimondi, quindi Creazzo, Caravaggio a Coad e qui a Coad, Morgiardi con Gimondi, andiamo a vedere la quarta posizione, qui la prende tra il Pestantina e Creazzo, Pestantina, Creazzo, è combattuta, è combattuta, è veramente combattuta la bagarra quando si scatena sulla fredda di Islas, è un gatto pesasco che è una scatola, Pestantina, 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 seconda serie di Gimondi, e Lusi, sono una